Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata del podcast Cresciuti a pane e finestre. Da questa parte Daniele di DM Infissi, serramentista specializzato in installazioni ad alte prestazioni termiche. Dall'altra parte... Ciao a tutti, io sono Massimiliano Aguanno e sono sempre un serramentista specializzato in installazioni ad alto isolamento termico. Sono anche operatore termografico di secondo livello, quindi insomma giochiamo con cosine diverse io e il Daniele. Sì, in questo podcast lavoriamo un attimino sulle due componenti che rendono performanti le installazioni dei seramenti, quindi un po' la termica, l'acustica, ma anche le patologie edilizie legate all'installazione di seramenti, quindi al mondo di finestre e porte. Siamo qui oggi proprio per presentare il nostro nuovo libro che si chiama, Max? Infissi e serramenti, danni e difetti. Sì, abbiamo lavorato parecchio su questo libro, tantissime ore io e Max in questo anno, cioè nell'anno passato. Finalmente Maggioli Editore ha pubblicato la nostra edizione e siamo molto contenti. Max, introduci un po', prego Max, introduci un po' il libro e raccontiamolo un po'. Ribadisco, ribadisco che siamo veramente orgogliosi perché è un editore così importante come Maggioli Editore, che ci ha consentito di scrivere un libro che parlasse di quello che poi facciamo tutti i giorni. Tutto è nato quasi per gioco parlando con delle persone che già hanno scritto libri per Maggioli Editore, e ci hanno esortato, dice ma voi fate serramenti, fate installazioni, avete delle performance veramente importanti, i vostri clienti sono soddisfatti, avete 5.000, adesso sto giocando, avete centinaia di recensioni a 5 stelle, ma per quale motivo non mettete anche a disposizione di altri che hanno sete, hanno voglia di poter leggere, guardare fotografie che riguardano il mondo dei serramenti? Ed eccoci qui, ti correggo Daniele, non era un anno ma era quasi un anno e mezzo di lavoro. Ah, è vero sì, è che il tempo passa Max, hai detto la parola fotografie, sì perché? Perché noi abbiamo usato un metodo un po' particolare per scrivere questo libro, ovvero abbiamo voluto chiaramente esprimerci a livello scritto su tutto quello che sappiamo, che sono un po' le criticità e le problematiche legate al mondo dei serramenti, ma le abbiamo volute argomentare anche con più di 150 fotografie che poi vengono commentate, perché il nostro intento è quello, come ha detto Max poco fa, di promuovere pratiche virtuose per l'installazione dei serramenti che devono in qualche modo durare veramente molto tempo nelle pareti dove li andiamo a installare. Questo lavoro ci è costato grandissime riflessioni, perché chiaramente non è facile poter scrivere certe cose, però abbiamo capito che poi alla fine la finalizzazione è quella di far capire cosa non va fatto, perché bene o male in tanti sanno cosa si può fare, ma non troppi sanno dove portano determinate problematiche, quindi è una mano tesa da aiutare il settore edile per quello che possiamo fare, giusto Max? Sì, l'abbiamo raccolto in 12 capitoli, vanno da tutte quelle che sono le analisi preliminari, che poi è un pochettino croce edilizia del cantiere, del settore dell'edilizia, perché studiare, progettare preliminarmente è un elemento importante, e in alcuni casi lo viviamo ancora sulla nostra pelle quotidianamente, si vede che laddove si va a dedicare un pochettino più di attenzione e cura in tutti gli studi preliminari, dei dettagli esecutivi in modo particolare, parliamo per esempio di impianto idraulico, impianto elettrico, di serramenti che è una cosa su cui spesso veniamo coinvolti, ecco quando avviene appunto questa interazione tra mondo del progetto e mondo degli applicatori, i risultati sono eccezionali, tra l'altro le evoluzioni normative, a cui accenniamo nel libro, porteranno sempre di più a verificare in opera i lavori che verranno fatti, questo è un passaggio molto importante, un passaggio molto importante perché porta ad avere un lavoro garantito, porta il cliente che è spesso vittima in cantiere di tutto quello che sono a volte, come dire, dei passaggi che vengono fatti con poca cura e dell'unico che poi non ha veramente nessuna colpa, se non quello di aver scelto commissionare e pagare dei lavori. Tu Daniele hai una grande esperienza di costruzione, di case nuove, di case basse, passatemi il termine, io lavorando a Milano spesso, magari in condominio, io sono stato più coinvolto in esami, in rilievi acustici a fine lavoro, tu sei stato più coinvolto in rilievi dove Blowerdorf Test è stato l'elemento di valutazione, sicuramente un elemento interessante Blowerdorf Test, no Dani? Sì esatto, ovviamente come hai detto te con l'uscita delle normative che girano intorno al mondo del serramento, l'intento è quello di creare buone pratiche, buone procedure e soprattutto come hai detto te il coinvolgimento degli operatori, che talvolta è quello che poi porta ai migliori risultati, nel senso quando lavoriamo in abitazioni a basso consumo che vengono costruite con dei criteri già abbastanza importanti a livello termico e poi di conseguenza anche acustico, il lavoro più difficile è proprio quello di coordinare i progetti e le disposizioni di posa in opera tra tutti gli operatori che vanno a lavorare in questo frontiere, in questa abitazione. Ecco, nel libro noi cerchiamo di mantenere un focus che porti veramente a lavorare in gruppo, lavorare in team, lavorare sulle basi di progettazione già esecutiva che poi viene mantenuta fino in fondo per portare al risultato. Ecco, lo abbiamo scritto con molta umiltà, seppur alcune cose possono essere anche un pochino forti perché parlare di patologie non è semplice, lo abbiamo sperimentato facendo parte del corso più importante a livello italiano organizzato da De Plan e Maggioli che è quello sulle patologie edilizie, un corso che ci ha portato a trattare questi argomenti in modo veramente molto costruttivo, giusto Max? Sì, certo, essere parte di un gruppo di lavoro, di un programma che è durato molti mesi, si era appunto quello legato a Maggioli Editore, si è reso promotore del corso di alta formazione sulle patologie edilizie, dove veramente dei relatori dei massimi livelli, docente universitari, ricercatori, persone che tutto il giorno si applicano per fare in modo di avere materiali sempre più performanti a disposizione in cantiere, di raccontare che una progettazione ben fatta è sempre qualcosa da cui non si può mai prescindere ed anzi con l'evoluzione tecnologica dei materiali e del cantiere è ancora sempre più importante, fino ad arrivare a soggetti che come noi hanno magari una maggiore esperienza pratica di cantiere, quindi l'unione di progetto, verifiche preliminari, esecuzione e verifiche ex post, secondo me è quello che il corso di alta formazione sulle patologie edilizie ha offerto a, ricordiamo che erano veramente tantissimi partecipanti i tecnici, Maggioli Editore sicuramente se ha fatto una cosa di questo genere è evidente che ha intuito che ce n'era bisogno perché c'era una forte richiesta. Il libro è una risposta per la nostra parte, quella appunto legata alle patologie dei serramenti, che riteniamo di aver dato in maniera importante. Cioè abbiamo fatto un po' d'ordine e vogliamo che sia uno strumento di lavoro perché è carico di checklist, ipotesi, le norme, tabelle, esatto. Sì, ci siamo sentiti un po' piccolini piccolini in quel gruppo di esperti così importanti, però poi abbiamo fatto un ragionamento con Massimiliano, abbiamo fatto un ragionamento che comunque le abitazioni sono composte da tetto, pareti e infissi. Spesso si parla di tetti, spesso si parla di pareti, di cappotti, di problematiche relative a materiali che possono essere usati in facciata o meno, si parla sempre poco dei serramenti, che sono elementi veramente molto deboli e diciamo ci siamo buttati in questa avventura proprio perché siamo una parte in causa con le nostre finestre, con le nostre installazioni, con le nostre progettazioni di quelli che sono gli elementi fondamentali che devono avere durabilità nell'ambito di un ciclo di vita che è quello dell'abitazione. Perfetto Max, io direi che abbiamo già in questo primo podcast tirato giù una bella serie di argomentazioni. L'importante ecco di questo primo podcast di Cresciuti a pane e finestre è quello di sottolineare il fatto che il libro è acquistabile. Max, vai te, dove lo possono acquistare il libro? Allora, Maggioli ha una sezione dedicata sul sito Maggioli.it che è la sezione formazione, quindi se su Zio Google digitiamo formazione Maggioli le danni e difetti dei serramenti sicuramente arriviamo e atterriamo sul link che poi ci guiderà verso l'acquisto Maggioli è estremamente efficiente sia nella modalità di acquisto che nella spedizione, quindi si può avere in pochissimi giorni quello che è un libro, un viaggio. Dani, voglio sottolineare questa cosa, per noi è stato un viaggio a chiusura e l'abbiamo riportato proprio nell'introduzione. Un viaggio per il cantiere attraverso le decine di migliaia di ore di esperienza che abbiamo passato in cantiere e 46 anni di esperienza tra teme nel cantiere stesso. Quindi l'abbiamo affrontato proprio come un viaggio all'interno del quale tra ostacoli e impedimenti, elementi, il vento che ci ha aiutato a correre un po' più veloce in alcuni momenti, però ecco, questo è stato un po' lo spirito con cui l'abbiamo scritto. E però Max non finisce qui, perché questo podcast avrà diverse puntate e cosa tratteranno queste puntate? Tratteranno un po' in, diciamo, qualche riassunto del nostro libro, di quelle che sono le parti che vengono trattate. Lo faremo in modo discreto, perché comunque non vogliamo rovinare la lettura del libro a nessuno, però vogliamo comunque sensibilizzare sempre di più gli operatori edili, i seramentisti, i progettisti, i direttori di lavoro, i lavori, coloro che si occupano di verifiche nel seguire le buone pratiche, cioè nel gestire tutto in maniera procedurizzata. Questo è il nostro, diciamo, è il nostro contributo modesto e umile, come voglio ribadire, al momento edile che stiamo affrontando, che è un momento abbastanza complesso, dato anche chiaramente da questi incentivi che stanno forzando un po' la mano a tante installazioni. Io con questo vi saluto, lascio la parola a Massimiliano per i saluti e ci vediamo o ci sentiamo, ci vediamo per chi vede il video e ci sentiamo per chi sente il podcast, al prossimo appuntamento. Benissimo, vi saluto anch'io con la nostra parola d'ordine che è sempre collaborazione. In cantiere bisogna collaborare. Tutti dobbiamo fare in modo che il prodotto finale per il nostro committente, privato, azienda, pubblica amministrazione, sia il meglio che siamo nelle condizioni di poter offrire e abbiamo il dovere di farlo. Un saluto a tutti e ci vediamo con il prossimo podcast. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a Max. Ciao ciao.